Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollono. Se l'altra pilla fa fa, è forte. Dale, non è l'entrata. Per Mario, fai il tau. Se l'altra pilla fa fa, è forte. Prendi un pochino di soldi con questa, ma come si fa? È solo il sistema. Vai, fermo. Vai. Aspetta. A questa pilla fa il piano. Ah, questa sono io. Mi devi salvare. Una pediglia. Guarda. No, secondo me la mano ha preso insieme. Guarda, guarda. Oh, cazzo. Prendiamo sempre Mario. Ah, super Mario, o cosa la fa? Prendiamo lui. Fatti vedere. Vieni. Prendiamo il piano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.